Buongiorno con il nostro programma, con Glenn Miller Midley, raggiamento di Norman Taylor. Glenn Miller, musicista jazz e direttore d'orchestra statunitense dell'epoca swing, autore di pezzi celebri come In the Mood, Moonlight Serenade. Negli anni 30 lavorò in diverse orchestre suonando il trombone. Nel 1937 formò la sua prima band senza però riuscire ad emergere. Nel 1938 formò un secondo gruppo, la Glenn Miller Orchestra, che ottenne subito un grande successo e che tra gli anni 30 e 40 fu l'orchestra più popolare negli Stati Uniti. Nel 1953 la sua vita venne portata sullo schermo nel film Glenn Miller interpretato da James Stewart e con le apparizioni di Lewis Armstrong e di James Krupp nella parte di loro stessi appunto. Le musiche originali del film furono però composte da Harry Mancini. Ascoltiamo ora Glenn Miller Midley. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.